un rifiuto grande ha un grande problema ma dipende dipende il tipo di rifiuto se ce l'ho come privato cittadino se ce l'ho come impresa oppure se ce l'ho diciamo come il negozio chiaramente i problemi cambiano al di là del ruolo che uno ha no bisogna chiamare se è toscana e chiamare al numero 800 1 2 7 4 sì sì perché io ho la fortuna di averci là per dire volo porto direttamente poi sia l'ambiente o al comune perché io sto vicino lì a discarica lì di renaccio e lo porto direttamente io chiamo la direttamente le aziende apposite che c'è anche sta fortuna invece il numero verde e mi danno l'appuntamento ci sono dei centri per la raccolta e lo smaltimento di questi grandi rifiuti credo che mi rivolgerei lì no a me quando è capitato ho chiamato il numero verde di siena di sei toscana e mi sono venuti a prenderlo a casa quindi non è stato un problema parto dall'inizio cerco di non trovarmi a comprare cose che possono diventare un grande rifiuto e se qualcosa può diventare un grande rifiuto spero che potrà avere un altro uso insomma è molto semplice basta portare tutto alla stazione ecologica grazie a tutti